Triangolo, tu sei troppo rigido prima di chiudere, per chiudere devi sentire prima, senti dove colo e poi diventa rigido. E come faccio per la salicità? Ma ispirazione e non devi, capisci, tu stai cercando subito di controllare, controllo qua, guarda, ricorda una cosa, queste cose si fanno per controllo di ossa, biomeccanico, non controllo di muscoli. A me basta mettere osso e tutto altro lavoro fa il mio corpo, non i miei muscoli, guarda, mettiti qui, ti mostro, sarò adesso rilassato, rilassatissimo, guarda, sono qui, bam, sono andato, vedi, sono qui, guarda, vedi, non che ti strengo, basta, posso anche liberarmi qui, basta, tengo, no, è impossibile. Vedi, io ti controllo con biomeccanica, non con forza, basta di essere attaccato bene, questo è importante, vedi? Sì, dai, devi sentire che tu sei attaccato bene, poi fare tutto quello che vuoi, puoi fare dopo questo. Vai piano, chiudi bene i bracci, senti che i bracci fiumi, ginocchio a terra, ginocchio a terra, bene, vedi? E stringi bene tra le gambe i bracci, bene, adesso lo prendi con sinistra, oh, vedi? Vai, 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 molto meglio. Sì, qua, tieni bene i bracci, tieni, 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 vedi, perché non sento tirato, tira bene, oh, oh, verso testa, verso testa, oh, così, controllo, no, 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 controllo con testa, così, bene, bravo. E adesso fai piano piano il triangolo, piano, 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 attaccati bene, aspetta, girati molto meglio alla scela, taloni qui giù, giù taloni, oh, ancora, metti i taloni a terra. Odesso poi chiudi tranquillo, vedi? No, no, che stai tu. Mi ho telefono. No, no, dai, kada? Kocic, che spartiamo tre uomini? Io. Non andai. Dai. ok dai veloce facciamo tutto quello che abbiamo fatto giusto per una minuta metti in quattro io mostro a video все что мы сегодня сделали раз, триангл со стороны головы хоп, триангл со стороны головы, триангл odat parte di testa poi, cintura, esco via, fuori, anaconda choke, prendo cintura, esco dall'altra parte anaconda choke, cintura da qua, hop, anaconda choke, cintura da qua, anaconda choke da questa parte, hop, chiuso, vado, 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 vado curre tabacca, molto più vicino al ginocchio e loco qui dentro davanti, pam poi, pam, pam ok vengo qui, pam chiudo si? poi ganci ganci di gamba per girare gancio dall'altra parte hop si? ok 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 ultimo de brazo ah, si? poi adversario hop, hop hop triangolo faccio lavori si? bene e laterale laterale quando mi chiudono chiudi gamba vai 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 quando mi chiudono metto piede a terra e pian piano pac 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 mi avvicino quando il piede sarà vicino al culo di avversario mi libero vado bene poi di qua sono qua si? vado qui 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 cambio posizione braccia chiuso chiudono o qui luin luin